stanno qua 5 bicicletta avanti tutti i ragazzi? i genitori, i nani e i nonni stanno pure i nonni i bambini stavano con la bici? si che si è fatto? non lo so ma l'ho portato all'ospedale non ti ha fatto nulla? non ti ha fatto nulla? non ti ha fatto nulla? a volte che sta su qualcosa e me l'ha fatto il padre quindi a noi no così questo qua guarda quale? poi c'era un paio d'anni no no questo qua no possono dirlo vai è rotta è rotta ci sta anche una ciocca grazie